Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacorata Madonna dei boschi, prega per noi. Spirito Santo, Amen. Carissimi, le profezie dell'Antico Testamento che abbiamo visto nella volta scorsa sono un fatto sopranaturale ordinato da Dio a perpetuare lungo i secoli che dovevano precedere la venuta del Messia. Il ricordo è l'eco della grande promessa fatta nel paradiso terrestre ai nostri progenitori di un futuro liberatore. A tenere destra negli uomini la speranza e l'aspettazione del Cristo venturo. Preparargli la via a testimoniare in modo irrefragabile la divinità della sua persona e la sua missione. Però non furono soltanto le profezie etanevivo nel popo giudaico il pensiero del Messia futuro, il delineare la persona, i carati, la missione, eccetera. Il ritratto del Salvatore passò attraverso i 4.000 anni, secondo il computo biblico, che precedete la sua comparsa in una serie di figure abbinabilmente belle e maestose, che ne rappresentarono al mondo l'immagine viva, ne dilearono i tratti principali, le proprietà, gli uffici, i fatti, la vita stessa, riuscendo in una perfetta conferma di quanto i profeti stessi avevano intraveduto e predettero intorno al Cristo aspettato e promesso. Quindi deve avere considerato e conosciuto il Messia delle profezie, è giusto che vediamo anche, diciamo, questo riscontro nelle figure. Questo gioverà a completare nella nostra mente l'idea di quella preparazione grandiosa che Dio fece precedere al compimento dell'opera più eccelsa e sublime della sua sapienza e della sua potenza, cioè l'incarnazione del Verbo come sommo glorificatore. Tutto è fatto per la gloria di Dio, quindi in Cristo l'incarnazione del Verbo, ecco, c'è la somma glorificazione, ecco, di Dio. Ora vedremo, divideremo queste antiche figure in tre classi, le persone, le cose e i reti, sempre molto brevemente, ecco, e semplicemente. Vedremo sicuramente il significato dell'applicazione. Questi gendici però sono quelli che hanno con Gesù una relazione più personale, diciamo, è facile a notarsi. Quindi vediamo le persone. Ora non era conveniente che la sublime missione del Redentore si inaugurasse nel mondo così, per sorpresa, appunto, di punto in bianco, appare, ecco, Redentore. Mentre anche i re della terra si fanno precedere dai loro araldi e avanzano, seguiti da un pomposo corteggio, il re del cielo Gesù Cristo non doveva manifestarsi se non dopo aver avvertito il mondo della sua venuta. E perciò, oltre che farsi precede al magnifico corteggio dei profeti, scelsi tutto un popolo, e in questo popolo una schiera prima di tutto di personaggi illustri, ai quali fidò l'impegno di raffigurare la sua persona, la sua grandezza incomparabile. E questi personaggi furono i patriarchi, i re e i profetti stessi dell'antica alleanza, dell'antico patto, in quali furono davvero altrettante immagini vive, per quanto anche incomplete, del Redentore futuro. Quindi passiamo in rassegna alcuni dei principali. Partiamo ovviamente da Adamo, il primo uomo uscito alle mani di Dio, il padri di tutti gli uomini, secondo la carne, il re dell'universo creato, dalla cui costa fu tratta la madre umanità, Eva. E quindi lui è la prima figura del Redentore, se qui insiste, particolarmente Samparo, dicendo Siccome per un solo uomo entrò il peccato nel mondo, per il peccato la morte, così anche in grazia di un uomo, tutti gli uomini saranno salvati e per lui solo regneranno nella vita. Siamo a Lettere Romane, capitolo quinto. Difatti, se Adamo è il padre di tutti gli uomini secondo la carne, Gesù Cristo è il padre secondo lo spirito. Se Adamo è il re dell'universo e per lui tutte le creature furono fatte, Gesù Cristo è il re pure dell'universo e da lui e per lui furono fatte tutte le cose, soprattutto per lui. Se una costa di Adamo fu tratta la madre di tutti i viventi, Eva, dal costato aperto di Cristo esce la chiesa, sua sposa, che sarà la sua immagine, la sua compagna e le darà numerosa figlioranza. Se Adamo col suo peccato danna tutti gli uomini, Gesù Cristo li salva mediante Redenzione. Diciamo riapre la porta del Paradiso, poi gli uomini devono impegnarsi ovviamente per guadagnare il Paradiso. Seconda figura vivente del Cristo è Abele, figlio di Adamo, cioè chi è buono e innocente perisce vittima dell'odio di suo fratello Caino. Questo è il frutto del peccato originale. Prima la paura per i quali Adamo e Eva si nascoste, siamo nascosti perché avevamo paura. L'effetto primo è la paura, anzi ancora prima sono visti nudi, hanno perso la grazia santificante, poi sono nascosti in paura di Dio, mentre prima colloquiavano amorosamente, e poi la morte, stipendio del peccato e la morte in San Paolo, purtroppo. Quindi anche Gesù diviene l'oggetto dell'invidia degli ebrei sui fratelli, viene d'essi condotto fuori Gerusalemme e messo a morte. Comunque la redizione di Dio scende sul fratricida Caino, così discene terribile anche sul popolo giudaico, condannato in punizione del decidio commesso a errare vagabondo su tutta la terra, senza luogo fisso, senza re, senza sacerdoti, senza sacrificio. Ecco, finché alla fine non riconosceranno Gesù come Messia. Ne parla San Paolo al capitolo 11, quando uno disegna anche delle fine dei tempi, sarà quando anche il popolo ebreo riconoscerà, ecco, Cristo come vero Messia. Quindi c'è già stato il Messia, non è che si deve aspettare un altro. Altra figura maestosa del Salvatore è Noè, l'unico tra gli uomini, che in quei tempi di corruzione universale, sempre effetto del peccato, fu accetto al Signore da cui ebbe l'incario di fabbricare l'arca di salvezza per la conservazione del genere umano ed a cui dopo il diluvio mola un sacrificio cruento di propiziazione e di rendimento di grazie. Difatti anche Gesù è il suo trovo grazie davanti all'Eterno suo Padre da cui ebbe l'incario di fondare la Chiesa, ovviamente anche l'immacolata sua madre per il disegno della redenzione, diciamo particolarmente Gesù, che precisamente l'arca mistica aperta a tutti quelli che vogliono sfuggire al diluvio di iniquità che sommerge il mondo, da cui offerse sulla croce un sacrificio di propiziazione mille volte più accetto di quello di Noè. che se Dio si servì di questo patriarca per ristaurare il mondo che aveva distrutto e ripopolare la terra di una nuovella generazione, si servì ugualmente del Salvatore per ristavire nel mondo tutti quei beni che il peccato aveva fatto sparire e per riempire la terra di giusti e il cielo di santi. Altra figura del Salvatore è re Melchisedec, re insigne e sacerdote dell'Altissimo, del quale non ci è dato conoscere la genealogia che offre in sacrificio a Dio il pane e il vino. Anche Gesù, infatti, è il re insieme e il sacerdote, anzi il re e il sacerdote per eccellenza, la cui generazione si perde nel seno dell'eternità, che sostituisce alle vittime sanguinose degli antichi sacrifici il pane e il vino misteriosamente trasformati nella sua carne e nel suo sangue glorificato. Altra immagine soave comomente del Salvatore è Isacco, l'unico figlio di Abramo, questa è una delle più belle immagini anche se può dire di Cristo, che condannato innocente per volere di Dio morire sacrificato, carico del legno del suo sacrificio, sale il monte, si lascia legare, stendere il suo rogo senza aprire bocca. E in premo della sua docilità e poi benedetto da Dio riceve la promessa di un'immensa progenie. Anche Gesù, unico figlio di Dio Padre, è destinato innocente e santo, corpiù di Isacco, per divino volere essere sacrificato. Anche Gesù sale il monte dell'olocausto portando sulle spalle la croce e lo strumento del supplizio. Anche Gesù si lascia distendere e inchiodare sulla croce come un agnello senza proferire parola, lo diciamo al profeta Isaia. Anche Gesù in premo della sua manosuetudine, poi esaltato da Dio, e diceva in eredità tutte le nazioni della terra. Quale profonda analogia fra i due personaggi, qual è perfetta la somiglianza, mentre Isacco è una delle più belle immagini del radentore. Altra figura mirame del Salvatore è Giuseppe Ebreo, il figlio prediletto di Giacobbe, che è tradito, venduto dai suoi fratelli, fatto salvatore di un popolo straniero, ci rappresenta al vivo Gesù, figlio prediletto del Padre, tradito pure e venduto dal suo apostolo Giuda, che salva dalla colpa originale poi tutta l'umanità, ed è chiamato perciò Salvatore del mondo. Poi ancora figura del Cristo è Mosè, salvato dalle acque, legislatore della Nazione Santa, liberatore del suo popolo, che rappresenta Gesù, l'infante divino, che una madre vergine preserva dei furori di un tiranno geloso, diventa l'autore della nuova alleanza, liberatore dell'umanità, legislatore incomparabile e immortale. Fu detto, ma io vi dico, con l'autorità divina, di completare quella che era, diciamo, la rivelazione, la legge di Dio, la parola di Dio stessa che si è fatta carne. Altra figura del Cristo è Aronne, il capo del sacerdozio di Israele, che ci adombra chiaramente Gesù, il capo del sacerdozio cattolico. Figura di Cristo ancora è Sansone, il forte che libera il popolo dei filista, e Trionfa morendo, vivi magia di Gesù, che è confitto alla croce nel proprio sangue, vince il peccato e l'inferno. Figura del Cristo è il re Davide, che dall'abiezione della vita, insomma, dalla vita semplice pastorale, diceva il pastorello, ecco, è sollevato lo splendore del trono, che calma i furori di Saul, che atterra il gigante Golia, che è perseguitato e che finalmente regna glorioso. Ritratto vivente di Gesù che placca l'ira divina, che atterra l'impero di Satana, è perseguitato, cercato a morte, ma poi coronato per la sua passione, come dice l'Apostolo, di gloria e di onore. Figura del Cristo è Salomone, il re della pace, che edifica il Tempio col concorso dei gentili, immagini di Gesù che fonda la sua chiesa, alla quale sono ammessi anche i popoli delle genti. Figura del Cristo è Giona, il profeta che sta tre giorni sepolto nel vento di una balena, che poi è mandato sano e salvo sulla spiaggia. Simbolo reale di Gesù che sta tre giorni nel seno della terra e poi risuscita da morte glorioso e trionfante. Finalmente, figura del Salvatore sono tutti quei profeti che furono martirizzati per la testimonianza dal loro recato alla verità, schiera gloriosa di eroi, la quale non è che un riflesso anticipato di Gesù Cristo, annunziato, rappresentato, delineato di tante e si varie figure. In questo processo vediamo le cose. Tuttavia, se Gesù Cristo rispecchia l'immagine propria nel volto di tutti questi grandi personaggi della Bibbia, la sua divina fisionomia viene pure addombrata in tante altre cose e in tante cerimonie o riti dell'antica fede. Ne ricorderemo solamente alcune. Che cos'era la manna prodigiosa che discendeva ogni giorno dal cielo per servire di alimento agli ebrei erranti nel deserto, se non un'immagine di Gesù Cristo che si sarebbe fatto alimento prodigioso e sostanziare delle anime scendendo quotidianamente sui nostri altari e comunicandosi in forma di cibo ai suoi fedeli mediante il sacramento eucaristico. Ecco, vivissime masi dell'eucaristia nella manna nel deserto degli ebrei. Che cos'era poi il serpente di bronzo, innalzato da Mosè sopra un legno perché guarisse dei morsi dei velenosi serpenti, quelli che lo guardavano, sono una figura di Cristo che innalzato sull'inno della croce salva gli uomini peccatori che lui pongono gli sguardi della loro fede, della loro speranza, del loro amore. Anche lì è chiara l'allusione del serpente, innalzato da Mosè, e lo solo sguardo guarisce dei morsi dei velenosi serpenti. Lui guardando la croce, contemplando la croce, pentendoci i nostri peccati, veniamo guariti da Cristo. Poi certo c'è la confessione, però già un sano e santo pentimento ci ottiene già la grazia santificante quando il pentimento è perfetto. Rimane comunque l'obbligo della confessione. Cos'era l'agnello pasquale per cui il sangue degli ebrei, per cui il sangue degli ebrei furono preservati dalla morte temporale, se non un simbolo di Gesù Cristo, vero agnello di Dio, che col sangue preziosissimo preserva tutto il genere umano dalla morte eterna. Anche lì è chiaro, no? Durante la Pasqua, tutti gli ebrei e le case di ebrei che ho spassato il sangue dell'agnello erano salvi dall'angelo della morte. E gli altri invece, ecco l'angelo della morte, falciava, diciamo. Anche qui, col sangue siamo stati liberati della schiavitù, ecco, del peccato del demonio e quindi ci ha riaperto il rapporto del paradiso col vero agnello. Siamo a una battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che cos'era il fuoco sacro che non doveva stingersi mai né di notri né di giorno sull'altare se non una immagine dell'amore eterno che accende il cuore di Gesù Cristo nel tabernacco dell'altare e davanti al trono di Dio? Che cos'era l'arca del testamento formata di purissimi legni se non figura del corpo di Gesù Cristo dalle carne immacolate? E il propiziatorio, la verga di Arone, le due etave della legge, il candelabro e la mensa e il doppio altar degli olocausti e dell'incenso? Che cosa erano se non altrettanti simili che rappresentavano Gesù Cristo, ha fatto i suoi meriti, il suo sacerdozio, la sua dottrina e il dono generoso che gli ha fatto e la sua carne adorabile? Cioè Dio ha fatto in maniera proprio progressiva tutto quanto questo, in maniera che già nel popolo non si è messo questo senso del sacrificio, ma in tutti i popoli c'è questo senso del sacrificio, sono per propiziarsi, diciamo, la divinità per la pioggia, per allontanare le carimità naturali, per allontanare la carestia, insomma, per i bisogni, eccetera. Quindi, ma in particolare, il popolo è letto con dei culti particolari che hanno in preparazione poi all'unico vero culto, ecco, del figlio di Dio, di Dio stesso. Infine vediamo i riti. parliamo di quei riti che si praticavano in mezzo al popolo ebreo. Scusate, se parliamo finalmente dei riti che si praticavano in mezzo al popolo ebreo, che cosa rappresentavano le vittime immacolate che si muovavano sopra gli altari e il fuoco che le consumava e il sangue dei viteri e dei tori che scorreva dappertutto, inondava il pavimento, arrossava l'altare e si spargeva sul popolo e le carni che si distribuivano al popolo stesso? Forse che Dio si compiaceva di quei sacrifici sanguinosi, ma che senso di questi sacrifici quanto questi poveri besti molate giorno dopo giorno, eccetera, ma poverette, no? No, giustamente ci pensa anche. Forse che il sangue degli animali innocenti bastava per sé lavare le sozzure del mondo? No, certamente. Tutto ciò aveva un altro scopo, quello di rappresentare Gesù Cristo, la sua croce, il suo amore, lo scopo di significare che un giorno il sangue di un Dio sarebbe versato per riconciliare la terra con il ceno. Adesso lasciamo qui di ricordare e interpretare molti altri riti, altre cose personale dell'Antico Testamento fu una figura del Messia perché sarebbe anche lungo, diciamo, ma da ciò che poco abbiamo esposto possiamo comprendere la sufficienza come nell'antica legge fossero innumerevoli i segni che annunciavano, descrivivano l'aspettato Salvatore come anzi tutto accadeva in relazione a lui. Leggendo il Nuovo Testamento che si comprende tutto l'Antico Testamento, no? Perché tutto l'Antico Testamento volge a Cristo. Come una parola diciamo la storia ebraica non era che una tela providenzialmente preparata su cui Dio aveva assegnato i principali lineamenti dell'edentore futuro facendolo risplendere nel passato come un'eloquente profetica immagine del futuro. Schimono Apologista al modo stesso che un pittore il quale ha veduto nei suoi sogni passare una figura radiosa che l'ha rapito e cerca con abbozzi ripetuti di riprodurre ora un tratto ora un altro finché dall'ultimo sicuro di sé e mosso dall'ispirazione del genio riesce a fissarla sulla tela nella sua completa e luminosa beltà così Dio prima di presentare al mondo quel sublime capolavoro che si chiama Gesù Cristo vuole tracciarne come un primo disegno nei personaggi più illustri nella vita religiosa dell'antico Israele questo è il gibier in Gesù Cristo e l'opera sua e il disegno era ormai perfetto l'immagine era ormai tracciata con sorprendente chiarezza e verità più non rimaneva che la realtà venisse finalmente a fugare tutte le ombre e figure e a compieri i voti i desideri e le ansi di tutti i popoli stiglino i cieli la celeste rugiada le nubi più piovano il giusto si apre la terra e germoglie il Salvatore questo no lo cantiamo a Natale non preghiamo a Natale ecco il grido del cuore l'invocazione disperata che da ogni angolo della terra anche dei popoli pagani stessi si innalzava al trono di Dio per implorare la nuova era di vita e di salute e il giorno del Signore venne finalmente per tutti per i figli della luce ma anche per i figli delle tenebre a tutti fu dato ciò che era stato promesso annunziato e figurato i cieli stidarono veramente la rugiada il giusto disceso come una pioggia feconda la terra si è persa in esultanza e la gioia generò il suo Salvatore infatti leggiamo nel prologo di Giovanni capitolo primo il verbo si fece carne da parve in mezzo agli uomini pieno di grazia e di verità bellissimo tutto quanto il prologo conviene rileggerlo sempre molto bello conclusione dinanzi a questo re umile e mansueto ma allo stesso tempo grande e glorioso il cui trono nel passato poggia sopra un piedistallo di 40 secoli di storia sempre secondo il computo biblico inginocchiamoci riverenti fino a questo istante in attesa di contemplare felice venimento la sua comparsa quei profeti che l'annunciarono col popolo che ne ha preparato la venuta e raffigurata la grandezza sciogliamo a lui eterno dominatore dei secoli l'inno della riconoscenza e del trionfo ecco allora leggiamo qualche qualche fatto qualche aneddoto l'arca noetica è il popolo di Dio non va ignota la storia del diluvio e dell'arca di Noè in quel tempo il cielo era oscuro immense lividi e nubi pesavano sulla terra dopo che le acque avevano tutto inghiottito Dio disse a Noè il secondo padre del genere umano ecco che la terra si è tutta riempita di iniquità e da nell'arca prendi con te quanto necessario per conservare e rinnovare l'umanità via via che il vento si faceva più forte i flutti più gonfi l'arca saliva saliva sulle onde schiumose che le flagellavano i fianchi la tempesta strideva fra i suoi alberi l'arca saliva ancora calma e serena portando insieme l'umanità rappresentata una famiglia che doveva riprodurla quando il mondo corretto e fatto migliore per l'immenso catacrisma avrebbe rialzato gli altari e la divinità ed offertole un cuore più puro e rinnovato ecco un'immagine che adombra bene lo stato e il popolo ebraico nell'antichità quale immenso diluvio di errori di corruzione ricopre il mondo antico il vero Dio è dappertutto sconosciuto gli si sono sostituiti gli astri gli idoli hanno usurpato gli altari e i popoli anche i più civili come i greci i romani sono genuflessi davanti alle mute immagini di divinità anche scandalose create dalle passioni per propria giustificazione un panteo no tutto pieno di dei ora in mezzo a questo diluvio di universale corruzione un popolo solo resta immune un popolo assai piccolo e chiuso nei stretti confini dell'Ufrate e del Libano ma grandi in realtà grande per l'idea grande per la propria legislazione religiosa morale e civile il popolo ebraico per quattordici secoli fra le più varie aberrazioni della mente umana esso prosegue il proprio cammino uniforme e tranquillo conservando nella propria maestosa immobilità le più sublimi e più pure idee sulla divinità sulla natura sull'uomo sulla famiglia e sulla società né soltanto custodisci la verità ma conserva anche la grande promessa del futuro Messia ne conosce l'arrivo la tribù la famiglia la natura il nome le virtù le fatiche i dolori la morte la potenza i trionfi il regno trecento e più anni prima che suoni l'ora benedetta redenzione quel popolo conosce quanto può importargli dei secoli futuri popolo conservatore che porta nel cuore il tesoro delle primitive verità e nei lumbi il sangue che genererà il verbo divino nel giorno assegnato da Dio popolo precursore annunzia precede e rappresenta colui che ha da venire infatti la storia proprio è veramente incredibile sia proprio una mano provvidenziale che l'ha guidato il serpente di bronzo come abbiamo accennato prima narra il libro sacro che una volta il popolo ebrei un auseato della manna che il signore faceva piovere tutti i giorni nel deserto si mise a mormorare contro di lui e contro Mosè molte volte per sé hanno mormorato durante questo passaggio sono stati liberati dalla schiavitù però e il cipolle dell'Egitto e le pentole e la carne e questo cipolle che ci disgusta insomma si lamentavano sempre sdegnato il signore per tante ingratitudine e l'insolenza di quel popolo mandò una grande quantità di serpenti i quali a un momento morsicarono un gran numero di quegli israeliti che avevano mormorato e morirono allora quella gente di dura servizio capì il male che aveva fatto anche perché qualche volta il signore è costretto a usare la mano forte perché se no non la capiamo e si prostrò davanti a Mosè pregandolo di intervenire perché Dio li avesse a liberare da si orenda sciagura ma lo fa sempre con fine d'amore proprio per salvarci finché non periamo Mosè si interpose presso Dio affinché si degnasse per donare tante iniquità i siano li esaudì e gli ordinò di alzare in mezzo deserto un serpente fatto di bronzo promettendo che tutti quelli quali avrebbero rivolto gli occhi a quel serpente sarebbero guariti dal morso fatale e difatti come Dio aveva promesso tutti quelli che guardarono quel serpente furono salvi troviamo il capitolo ventunesimo dei numeri magnifica figura con cui il Signore ha voluto farci capire la necessità che abbiamo di credere e sperare in Gesù Cristo per salvarci Emanuele Weit o Weit il celebre Weit forse pronuncia il celebre oratore tedesco Emanuele Weit era giudeo di nascita e si convertì al cristianesimo studiando nella Bibbia i vaticini e le figure che si realizzano su Gesù Cristo terminati i studi di Ciali studiò medicina all'università di Praga e allora frequentava spesso lezioni teologiche dove una volta l'impressiono la citazione fatta al professore di vari passi del Vecchio Testamento riferentisi al Messia Venturo e compiuti si pone la persona del Salvatore tornato a casa mandò a suo padre la Bibbia per consultare meglio quei passi ma il padre per paura che si facesse cristiano strappò da libro sacco le pagine che gli cercava e poi le sue rimostranze dispose con un forte schiaffo sul viso ma quello schiaffo ottene l'effetto contrario il giovane si applicò con maggior interesse ad esaminare le armonie mirabili che corrono fra antiche figure in realtà evangelica e questo studio lo condusse ad abbracciare la religione cristiana nel 1841 si fece prete e divenne predicatore di grido operando un bene grandissimo con la sua parola e con i suoi scritti che paura è di fare un confronto se tu sei convinto di avere la verità invece no strappando la Bibbia vietandoli di approfondire ha fatto giustamente l'effetto contrario noi ringraziamo la providenza di Dio ecco che come vediamo tutto quanto predisposto perché al tempo propizio ecco Dio stesso si facesse uomo proprio per redimere e salvare l'uomo con l'umanità che era stata afferita al peccato originale colpa del diavolo Dio ecco l'avrebbe assunta per poi redimerla non può essere salvata non può essere assunto mi sembra San Leone Magno diceva questo in tutte queste mirabili figure abbiamo visto come Dio aveva già preparato tutto quanto in vista all'incarnazione perché risultasse mirabile che veramente solo Gesù Cristo è Dio e che tutte le profezioni che abbiamo visto la volta scorsa più di 300 circa ecco alla fin fine tutte che vanno su un solo uomo ecco solo Dio infatti grande Pascal diceva credo Gesù e no Maometo perché Gesù è stato profetizzato Maometo no molto semplice allora ecco ringraziamo il Signore per la sua mirabile provvidenza gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amico su divene figlio e benedica la Vege Maria in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ame ave Maria grazie a tutti grazie a tutti